Non di rado sul set può tornare molto utile saper fare un buon nodo. Può servire per mettere in sicurezza uno stativo, per rigare la camera, una luce, per riparare al volo una valigia o anche semplicemente per appendere l'alimentatore di un proiettore LED. Quando si parla di eseguire un nodo si definisce corrente il capo della corda che viene mosso per creare il nodo, che passa attraverso le asole sul quale si esercita trazione. L'altro capo, quello più passivo, viene definito dormiente. In questo video vi mostro i nodi che sul set utilizzo con maggior frequenza, iniziando col Savoia, detto anche nodo d'amore o in inglese figure eight. È un nodo che ha il pregio di non stringersi molto, ma di essere affidabile. Quindi, pur creando una stretta solida, è molto semplice da sciogliere. Viene spesso utilizzato come nodo di congiunzione tra due corde dello stesso diametro. Per prima cosa si disegna un otto con la corda, quindi sotto, sopra, dentro e abbiamo qui il nostro otto. A questo punto, volendo utilizzare il nostro otto per legare qualcosa, si prende l'altro capo, ok, e gli si fa compiere lo stesso percorso appena compiuto dal primo, avendo cura di mantenersi rispetto a quello sempre sullo stesso lato. Quindi, infilo dentro, giro attorno, mantenendomi sempre sullo stesso lato, entro dentro, giro di nuovo attorno, entro di nuovo dentro, ed ecco il mio nodo. La cosa buona a questo punto è che qualsiasi tipo di trazione io applichi su qualsiasi capo, il nodo non fa che stringersi. Volendolo sciogliere, invece, è sufficiente spingere indietro i due capi e il nodo è subito sciolto. Il prossimo nodo è il parlato, club hitch in inglese. È un nodo che si vede spesso sui grandi frame perché ha la particolarità di fare un'ottima presa su oggetti sia di sezione quadrata che circolare e quindi impedisce a entrambi di scivolare. L'esecuzione di questo nodo è semplicissima. Basta passare il cavo attorno all'oggetto che si vuole stringere semplicemente avendo cura di inserire una X. Sotto la X va poi fatto passare il capo corrente e si stringe. Fatto. Già in questo modo il nodo è stretto con sicurezza attorno all'oggetto nonostante che questo sia liscio e cilindrico. E veniamo ora al mio preferito, il nodo scorsoio. È semplicissimo e rapidissimo da realizzare, è sicuro e regolabile. Ci sono diversi metodi per creare un nodo scorsoio. Quello che preferisco io è prendere un capo, farlo girare attorno a se stesso in maniera completa fino a creare un anello e farlo entrare nell'anello. A questo punto tutto quello che c'è da fare è stringere. Ci ritroviamo così con un cappio che se tiriamo un capo si stringe mentre se tiriamo l'altro si allarga. La cosa buona è che messo in tensione questo nodo non fa che stringersi e quindi risulta molto sicuro. Un altro metodo per creare un nodo scorsoio è creare semplicemente un nodo e farci passare dentro l'altro capo. In questo modo otteniamo lo stesso risultato. Trattandosi di uno dei nodi più semplici sia da realizzare che da regolare viene utilizzato con grande frequenza sul set anche perché una volta chiuso messo in tensione non fa che stringersi ulteriormente risultando molto sicuro. La gassa d'amante, bulling knot o bowline in inglese è uno dei nodi più utili in assoluto anche al di fuori del set. È tra i più antichi nodi che si conoscono, le prime testimonianze risalgono al 26esimo secolo avanti Cristo. È estremamente sicuro come nodo sottocarico ma al tempo stesso è semplice da sciogliere. Gli aspetti negativi sono che stressa molto la corda, ne riduce la portata di circa un terzo e tende a sciogliersi quando non è sottocarico. Questo problema però può essere facilmente risolto come andiamo ora a vedere. Prima di tutto crea un occhiello quindi così poi prendo il capo corrente lo passo dentro attorno e di nuovo dentro ok? E lo blocco a questo punto devo solo tirare il capo dormiente il nodo è estremamente solido una volta messo sotto tensione. L'unico problema è che quando non sottotrazione questo capo si può sciogliere con facilità. Allora per metterlo in sicurezza io posso allungarlo ok? e creare su questo capo un nodo d'arresto anche un nodo semplice. In questo modo anche quando il nodo non è sotto tensione non c'è rischio che si sciolga. Volendo essere ancora più sicuri si può creare qui un Savoia o un nodo d'arresto più solido. E chiudiamo col cappio serrante. Quando ciò che serve è eseguire in fretta un cappio sicuro e che non stressi la corda questa è spesso la soluzione migliore. Questo è sicuramente il più rapido e facile da eseguire. È sufficiente doppiare il cavo e creare un nodo semplice. In questo modo qualsiasi capo io vado a tirare non faccio che stringere il nodo. quindi non c'è trazione che lo possa allentare. Si tratta di un nodo dal forte potere serrante poco stressante per la corda e quindi molto sicuro ed è anche relativamente semplice da sciogliere. Dimenticavo è raro ma può cadere e dover unire due cavi di diametro diverso. In questi casi il nodo bandiera è il nodo di giunzione più utilizzato. è sufficiente prendere il cavo più grande piegarlo su se stesso afferrare poi il cavo più piccolo passarlo dentro attorno al di sotto di se stesso e tirare poi il capo dormiente del cavo più piccolo. Anche in questo caso qualsiasi trazione si applichi ai capi di questo nodo non si fa che stringere il nodo. di questo nodo. Grazie a tutti. Grazie.